Alla Portovesma SRL gli elevatissimi costi dell'energia hanno determinato una situazione ormai insostenibile. La prima ad annunciare l'apertura della cassa integrazione nelle aziende degli appalti è la SKV. Le segreterie territoriali FIOM, FSM e Wilm lanciano oggi un nuovo grido d'allarme sul presente e sul futuro del polo industriale di Portovesme e nello specifico su quello della Portovesma SRL, la sola grande azienda del primario attualmente in produzione. La politica a massimi livelli deve trovare le soluzioni per il problema derivante dal caro energia prima che sia troppo tardi, aggiungono le segreterie sindacali. Dopo l'annuncio della Portovesma SRL per l'apertura della cassa integrazione per i dipendenti diretti è iniziata la trafila che vede coinvolte le aziende d'appalto all'interno dello stabilimento. La prima a convocare le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici è stata la SKV, azienda di manutenzione operante quasi esclusivamente all'interno della Portovesma SRL che ha annunciato la necessità immediata di aprire la cassa integrazione che coinvolge tra appalti e subappalti circa 200 persone. I segnali che arrivano dal rallentamento della produzione sono fortissimi e riguardano la totalità delle aziende degli appalti operanti all'interno dello stabilimento che coinvolgono circa 600 lavoratori degli appalti. Diventa fondamentale, rimarcano FIOM, FSM e Wilm, una risposta immediata dalla politica che dia certezza alle garanzie di marcia degli stabilimenti senza che questi possano essere messi in discussione dagli aumenti energetici che in questa fase si stanno realizzando e che rischiano di essere catastrofici per tutto il settore industriale. Per questi motivi le segreterie territoriali dei metalmeccanici convocano per venerdì 5 novembre l'Assemblea Generale dei Lavoratori SKV dichiarando il totale sostegno alle eventuali iniziative che la categoria e le confederazioni volessero annunciare per sostenere il rilancio industriale e la tutela aziendale. Le aziende a partire dalla comitente si adoperino con la massima attenzione affinché la grave crisi congiunturale possa essere superata garantendo certezze occupative ed equità nell'affrontare l'emergenza.